Domenica 11 febbraio alle 18 al Palasport Estra, la MBC Servizi Arezzo affronterà la Computer Gross Use Empoli, seconda forza di questo girone di Serie B. Empoli guidata in panchina da coach Valentino è costruita attorno alle esperienze e alle qualità tecniche di Rosselli, la miglior difesa del campionato. Oltre a questo la Computer Gross può vantare anche il capo classifica dei marcatori, Luca Giannone. La MBC Servizi è dunque chiamata a riscatto dopo l'opaca prestazione di Luca, dove purtroppo ha confermato le difficoltà negli incontri lontani al Palasport Estra. Obiettivo primario degli amarantori coach evangelisti sarà quello di ridurre il numero di palle perse, che è diventato nelle ultime uscite un fattore negativo. Oltre a mettere in campo quella carica agonistica che ha permesso alla SBA di compiere vere e proprie imprese davanti al pubblico amico, dove si sono dovute arrendere Virtus Siena e Cecina. La MBC Servizi cercherà dunque anche la spinta del proprio pubblico in questa ultima uscita della prima fase per cercare di prendere fiducia in vista dei prossimi impegni.